Si aggirerebbe intorno ai 120.000 euro il danno provocato dai condomini di un intero complesso residenziale, oggetto di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Foggia, che ha portato all'arresto a Dortanova di 20 persone accusate di furto, aggravato di energia elettrica e sottoposte ai domiciliari in attesa del processo conrito per direttissima presso il Tribunale di Foggia. L'operazione denominata Switch Off è scatata all'interno di un complesso residenziale costituito da tre palazzine in via Campania e ha coinvolto, oltre ai carabinieri di Foggia, personale dell'undicesimo battaglione Carabinieri Puglia di Bari, della Questura di Foggia, del reparto mobile della Polizia di Stato e del comando provinciale della Guardia di Finanza. Il personale dell'Enel, intervenuto su richiesta dei militari, ha verificato la sussistenza di una situazione di illegalità diffusa. Di 24 appartamenti che costituiscono il complesso, solo 4 sono risultati avere un regolare contratto di fornitura di energia elettrica. I restanti si allacciavano abusivamente con contatori manomessi, in alcuni casi affinché registrassero almeno un consumo minimo di una lampadina e in altri addirittura totalmente bypassati con un collegamento diretto alla rete elettrica. Le indagini hanno consentito di accertare che questa situazione durava da diversi anni e i tecnici dell'Enel hanno provveduto non soltanto al distacco delle forniture abusive, ma anche alla messa in sicurezza degli interi stabili. Gli allacci abusivi infatti rappresentavano un pericolo per l'incolumità degli stessi nuclei familiari.